Salve gente, allora ieri sera le parole di Sarri, intervista su Sport Italia con Pedulla che è praticamente il suo portavoce ufficiale ormai ho comprato stamattina, in realtà è un po' una tradizione ragazzi perché quando c'era mio padre in vita non ci vedeva bene quindi non leggeva il giornale ormai da anni però l'unica volta che mi chiedeva di comprare il giornale era quando uscivano i calendari perché lui piaceva guardare tutte le partite e segnarsi i risultati qua ovviamente negli ultimi anni non ce la faceva manco più a segnare questi risultati per quello ogni tanto compravamo direttamente l'almanacco allora, quindi parleremo sia di calendario sia delle parole di Sarri ovviamente in questo video prima di iniziare due cose intanto ragazzi ho letto una notizia che mi ha fatto venire i brividi e la cosa che mi stupisce di più è i commenti positivi sotto a quelle pagine o comunque a quei post dove questa notizia è stata riportata e ha rimbalzato ovvero D'Ambrosio quasi in chiusura per la Lazio D'Ambrosio cioè io dico gente che dice ah no ma un buon acquisto no è utile ma utile è che ragazzi a settembre fa 35 anni siamo pieni dei giocatori piede destro cioè noi dobbiamo levare i giocatori piede destro e i piede sinistro se prendiamo un altro giocatore da mette e mezzo io boh io veramente un buon giocatore ma sì cioè ma che cazzo allora prendemose pure Cagliardini prendemose ripeto io a questo punto mi avete bocciato Saponara voglio dire che c'ha 31 anni ma sarà più di Saponara voglio dire che uno in difesa un D'Ambrosio uno ho scritto ho letto uno grandissimo uomo di esperienza grandissimo valore aggiunto ma grandissimi sordi aggiunti ma non c'abbiamo mai una lira e continuiamo a caricare a caricare stipendi io boh vabbè pure su D'Ambrosio lasciatemi un commento non andiamo troppo avanti veramente io rabbrividisco se vi piace addirittura 35 anni poi ripeto per un ruolo che fosse stato un un centrale dal piede sinistro vabbè ce manca in realtà ce nemmo solo Romagnoli ma porca troia a destri siamo stracarichi ma che cazzo ci devo fare volevamo togliere ancora il posto a Gila ma c'avemo Gila vabbè allora intanto iscrivetevi ragazzi se ancora non avete fatto come sempre sapete tutto campanile prima di aggiornati i nostri Amo 76 su Instagram dove metto qualche cazzata così qualche post insomma seguitemi se avete Instagram e niente un like adesso oltretti proprio ve lo scordate quindi lasciatemi subito un like o comunque se riuscite a ricordarvelo prima di abbandonare il video nel momento in cui deciderete di abbandonarlo allora ragazzi che parliamo prima parliamo prima delle parole di Sarri dai ieri sera ho visto questa intervista in realtà ha parlato di Lazio ha parlato di mercato però insomma si è trattenuto molto ha dato delle indicazioni niente che non sapevamo diciamo ha riconfermato il suo apprezzamento per Berardi vi ho detto di Berardi però la situazione la Lazio non vuole offrire più di 20 milioni quantomeno 20 di fisso più una parte piccola parte di bonus che possono essere 2-3 milioni il Sassuolo invece è più orientato ad avere 2-3 milioni in più quindi direttamente 22-23 milioni di fisso più un paio di bonus quindi diciamo più sui 25 e la Lazio insomma il distacco ragazzi l'ho detto più di un mese fa il distacco tra quello che può fare Lazio e quello che vuole il Sassuolo stiamo parlando di veramente di 2-3 milioni potenzialmente ovviamente è il Sassuolo che deve scendere verso la Lazio arriverà non lo so io onestamente non ripeto giocatori così di questa età lo tido fa fatica a mandarli giù comunque ha parlato di Berardi ha parlato di Maxime Lopez che onestamente ragazzi tra Maxime Lopez ha parlato anche di Torreira nel senso non è che ha parlato ha dato dei giudizi dicendo che sono giocatori che a lui piacciono però io a me non piacciono in realtà nessuno dei due se proprio devo scegliere sceglierei Torreira mi piace di più Maxime Lopez secondo me è un giocatore boh non lo so onestamente fra i due si assomigliano molto anche sia fisicamente che tatticamente mi piace più Torreira comunque poi comunque dice che Garzia lo voleva a Napoli poi di chi ha parlato ha spiegato che insomma lì davanti se arriva uno tipo Berardi potrebbe arrivare anche un vice immobile o comunque un secondo attaccante anche più giovane da far crescere perché lui comunque ha già chiarito che se mi arriva un tipo un Berardi userebbe come vice immobile non il giovane ragazzo ma direttamente Felipe Anderson quindi diciamo non varia molto il disco che abbiamo ascoltato lo scorso anno con il falso Nueve indipendentemente da chi arriva lì davanti almeno che invece poi non arriva un Ursulini però a quel punto dalle sue parole sembra quasi come a dire se mi arriva non ha nominato Ursulini però un Ursulini quindi non uno proprio che un'ala prettamente offensiva da area di rigore ma una buona ala lì davanti serve però a quel punto un attaccante bello che è fatto ha parlato di Milinkovic dell'importanza di avere un Milinkovic in squadra con i suoi risultati di questi due anni ma direi non solo di questi due anni dice che lui non dà nomi di mercato in realtà ragazzi vi assicuro ma questo però per certo perché me l'ha detto più volte il contatto lui non dà nomi infatti lui non li dà è il suo entourage che sta presso al mercato l'entourage valuta i giocatori insieme alla società dopodiché l'ultima parola è della società ma anche dell'allenatore nel senso perché nonostante l'entourage dà delle indicazioni poi comunque Sarri e dice sì ok va bene sì ok non va bene o comunque potrebbe andar bene più questo che quest'altro quindi l'entourage lavora per Sarri come come Petulla lavora per Sarri e fa capire e dà delle indicazioni perché questa intervista in realtà sembra quasi voler chiarire quali sono le sue indicazioni io l'ho vista anche ragazzi come un io le dico quello che mi serve poi quello che mi arriva come un po' anche come al solito parasse un po' il culo nel senso a me se mi da questi ci posso lavorare se mi da altri non lo so se ci posso lavorare mi sembra un po' limitativa la cosa l'allenatore deve essere in grado per lavorare con tutti certo è chiaro che se mi dai proprio gente di 17 anni oppure gente scarsa è un altro discorso quindi in generale ripeto De Mercato ha parlato e non ha parlato comunque ha fatto capire che è difficile ripetere il secondo posto dello scorso anno ma sicuramente una squadra che arriva seconda deve riconfermarsi nelle prime quattro diciamo un'intervista soft Monsarri che sembra tranquillo e pronto a ripartire anche perché bisogna ripartire ormai è imminente il ritiro niente di più ragazzi quindi non ha detto niente che mi ha sconvolto che non mi è piaciuto ha fatto un discorso lineare pulito ripeto secondo me ha utilizzato questa intervista come sempre quando parla con Petulla per dare delle indicazioni poi vedremo la società cosa cosa recepisce da questa intervista ragazzi non perdiamo tempo perché c'è tanto da dire sul calendario allora Sarri dice che è un calendario difficilissimo ragazzi i calendari tutte le devono incontrare due volte vale per tutti poi c'è quelli che si lamentano sempre no perché quelli li incontramo prima li incontramo dopo li incontramo io me lo so visto allora io so dell'idea che incontrare squadre diciamo top all'inizio che vengano da un campionato precedente al top e che la squadra allenatore sono rimasti quelli è sempre un impeccio magari subito perché magari potresti perdere i punti e già partire un po' demoralizzato ma noi incontriamo delle squadre che in realtà Milan non mi pare che sta a fare sto squadrone comunque viene da un anno non positivissimo diciamo quantomeno per il campionato la Juve che comunque si deve rifondare completamente non si sa manco se rimane a Lekhi non rimane a Lekhi insomma io quando è così se squadre ma magari beccarle subito il Napoli mi sembra che poi beccamo subito il Napoli cioè il Napoli ha dei giocatori ottimi è ovviamente detentrice dello scudetto ma cambia allenatore come sarà il nuovo approccio ci saranno un nuovo schema di gioco io non lo so non lo so quindi io queste cose insomma questi mondi importanti che dobbiamo incontrare queste squadre importanti che però sono in formazione io meglio che mi becco prima che stanno ancora in rodaggio poi dopo magari sarebbe più difficile noi invece veniamo da una squadra consolidata si spera con delle aggiunte importanti si spera comunque partiamo velocemente anche per farvi capire allora qui vi metto quelle che sono gli scontri della Lazio per tutto il campionato quali sono le partite così però allora partiamo prima giornata le prime giornate non sono previsti scontri di big match però penso che la prima giornata possa essere interessante ovviamente ragazzi ognuno di voi seguirà la propria squadra è chiaro però diciamo partite secondo me interessanti al di là della Lazio nella prima giornata per me c'è un Inter-Monza sono curioso di vedere il Monza al ritorno in campionato un Sassuolo Atalanta per capire e un Udinese Juventus diciamo queste sono tre partite che mi incuriosiscono ovviamente io adesso vi andrò a dire giornata per giornata velocemente quali sono secondo me i big match andando però ovviamente a parte le prime due dove metto solo le partite interessanti dalla terza in poi andando a prendere ovviamente le squadre quelle che diciamo storicamente in questi ultimi anni hanno fatto meglio delle altre perché non posso parlare di tutte quindi prima giornata vi ho detto le partite interessanti nella seconda vedo solo un Cagliari-Inter che mi incuriosisce onestamente per il resto partite abbastanza per tutti abbordabili per tutte le top poi ovviamente nelle prime giornate ci possono essere sempre le sorprese come ci può essere sempre la sorpresa durante il campionato tipo l'unidese l'anno scorso che ha fatto un numero di partite entusiasmanti a inizio campionato per poi trovare in seconda parte insomma il campionato riserva sempre delle sorprese però diciamo andiamo per logica per quello che è la storia terza giornata vedo interessante ovviamente il Napoli-Lazio e un Roma-Milan c'è questo incrocio che già può portare risultati importanti in classifica quarta giornata c'è un Fiorentina-Atalanta che mi incuriosisce c'è Inter-Milan il derby di Milano e c'è la Juventus-Lazio a Torino quindi diciamo la quarta giornata inizia per me da lì dalla quarta giornata sarebbe il caso di iniziare a vedere alla fine della quarta giornata la classifica ma non prima poi quinta giornata ci sarebbero niente di che ragazzi se vogliamo vedere forse ci sarebbe un Lazio-Monza e un Torino-Roma vediamo il Monza sempre perché mi incuriosisce vedere il Monza come riparte e alla quinta giornata ancora ci potrebbero essere delle sorprese e poi un Torino-Roma vediamo se il Torino riesce a fare qualcosa con la Roma non c'è niente di che alla quinta giornata ragazzi sesta giornata invece Torino incontra prima a Torino la Roma e poi la giornata dopo incontra a Roma la Lazio quindi un Lazio-Torino e va bene pure qui non c'è nient'altro di che vi dico la Lazio perché è un canale razziale ma in realtà potrei anche dire che questa giornata come quella precedente non c'è niente di che settima giornata c'è Atalanta-Juventus invece interessante è un Milan-Lazio ottava giornata c'è un Juventus-Torino quindi derby di Torino un Lazio-Atalanta e un Napoli-Fiorentina nona giornata c'è un Milan-Juventus quindi una partita importante il resto niente di pari importanza decima giornata abbiamo Inter-Roma Lazio-Fiorentina e Napoli-Milan questa sì che è una giornata interessante ragazzi anche perché sono dieci giornate quindi è finito il rotaggio qui le squadre devono a quel punto dare il massimo e questa è una delle classiche situazioni dopo di chi andrebbe vista quindi dopo la quarta giornata io andrei a rivedere la classifica dopo la decima undicesima c'è un Atalanta-Inter e un Fiorentina-Juventus dodicesima c'è il derby ed è anche l'unica al di là che è la partita per me più importante ma è proprio l'unica della giornata secondo me che è un big match tredicesima Atalanta-Napoli quindi aspetta la dodicesima avviene il 12 novembre il derby tredicesima fine novembre abbiamo Atalanta-Napoli Juventus-Inter e Milan-Fiorentina anche qui diciamo un trittico interessantissimo entriamo nel mese di dicembre quindi sapete qui con la Lazio sapete quali sono le partite iniziamo con un Napoli-Inter al 10 dicembre abbiamo un Atalanta-Milus Juventus-Napoli e Roma-Fiorentina partite interessanti 17 dicembre sedicesima giornata c'è Lazio-Inter 17 giornata praticamente a ridosso del Natale c'è Roma-Napoli a ridosso del Capodanno invece c'è Juventus-Roma a inizio ripresa campionato a gennaio dopo le festività c'è Roma-Atalanta dopo di che e qui abbiamo finito con l'inizio di gennaio abbiamo finito il giro di andata ritorno si ritorna subito si parte col metà gennaio il 14 con Mila-Roma ragazzi si parla che la Lazio ha partite consecutive difficili beh mi pare che le ultime 4 ho letto solo Roma quindi io ripeto tutti devono affrontare tutti quindi poi chi le affronta prima chi le affronta dopo come vedete la Lazio non ha partite una dietro all'altra di squadre di big match invece la Roma ha per esempio queste 4 squadre che secondo me sono cioè questi 4 turni 2 prima della sosta e 2 dopo la sosta abbastanza impegnativi ventunesima giornata Inter-Atalanta l'unico scontro forse c'è un Torino-Lazio che potrebbe essere interessante ma diciamo Inter-Atalanta l'unico big match potrebbe essere certo se l'Atalanta si conferma dall'Atalanta perché da qui a gennaio chissà magari ci stanno delle squadre che pensavamo in alto che stanno in basso e certe in basso che magari ci hanno sorprendito e stanno in alto diciamo ripeto basandoci sullo storico sono questi big match 22esima fine gennaio Fiorentina-Inter e Lazio-Napoli 23esima giornata Atalanta-Lazio e Inter-Juventus 24esima giornata c'è un Milan-Napoli e un Roma-Inter 25esima giornata stiamo a metà febbraio non c'è niente proprio partite tutte abbastanza semplici abbordabili per tutti non c'è nessun big match è l'unica giornata praticamente senza incroci pericolosi per nessuno certo poi ripeto quando arriveremo a quella giornata scopriremo se effettivamente sarà così 26esima giornata Fiorentina-Lazio e Milan-Atalanta poi ci sarebbe un Roma-Torino perché ragazzi io il Torino ce lo butto sempre in mezzo perché è sempre una squadra rompivalle però però diciamo i big match ufficiali delle prime diciamo di quelle che sono le grandi sorelle è Fiorentina-Lazio e Milan-Atalanta 27esima Lazio-Milan e Napoli-Juventus 28esima giornata siamo a inizio a metà marzo Fiorentina-Roma e Juventus-Atalanta 29esima giornata Atalanta-Fiorentina e Inter-Napoli 30esima giornata Lazio-Juventus e Napoli-Atalanta 31esima giornata siamo nel mese di aprile Juventus-Fiorentina e c'è il derby quindi 7 aprile ci sarà Roma-Lazio 32esima giornata vedo solo un derby di Torino Torino-Juventus 33esima giornata ci sarà Milan-Inter quindi il derby di Milano 34esima quindi per esempio che c'è stato il derby di Roma quello dopo il derby di Torino e poi il derby di Milano 3 derby uno appresso all'altro nelle 3 giornate 34esima giornata 2 big match Juventus-Milan e Napoli-Roma e qui stiamo alla 34esima ragazzi capace che questi due scontri potrebbero racchiudere in sé uno scontro scudetto chi lo sa chi lo sa 35esima abbiamo Roma-Juventus addirittura 36esima Atalanta-Roma 37esima giornata Fiorentina-Napoli e Inter-Lazio spero che qualcuno se lo sia già giudicato lo scudetto a sto punto perché insomma sono due partite pesantine secondo me secondo me soprattutto Inter-Lazio alla penultima giornata potrebbe essere pesante per la Lazio spero che abbia guadagnato il suo posto Champions 38esima giornata ragazzi mi sembra che è tranquilla per tutti non ci sono partite importanti e l'ultima giornata a quel punto spero che tutto si sia già deciso e magari quello che oggi alla 38esima giornata ci sembrano partite senza importanza magari invece ci sarà ancora qualche cosa da decidere bene ragazzi chiaro scusa della lunghezza del video c'era tanto da dire questo è la cosa ripeto secondo me i calendari tutti affrontano tutti se ripeto il mio punto di vista è che comunque il nostro non è il calendario più difficile e soprattutto secondo me affrontare squadre importanti all'inizio quando ancora c'è il ruotaggio soprattutto squadre che si stanno rifondando perché è cambiato l'allenatore che sono cambiati i giocatori perché sono cambiati sia uno che l'altro è sempre secondo me un vantaggio rispetto a una squadra incontrare squadre già collaudate diciamo che forse siamo noi il problema per gli altri dobbiamo anche entrare in quest'ottica ogni tanto ragazzi usciamo da questo provincialismo come si dice questa mentalità provinciale diciamo così scusate perché il caldo non mi fa venire parole questa mentalità provinciale dove noi dobbiamo avere paura degli altri ragazzi noi siamo una squadra consolidata da due anni gli altri stanno cambiando molto quindi vedremo poi chi arriverà chi si rinforzerà chi più chi meno ma secondo me a inizio campionato sono gli altri che devono temere noi spero che sia così lo vedremo solo vivendo per il momento olive dolci ci vediamo presto con un prossimo video ciao ciao